Buonasera, grazie per essere qui così numerosi in questo primo incontro del ciclo Stormi. Io sono Alessandro Iachino, con me Maddalena Giovannelli, in platea Camilla Lietti e Francesca Serrazzanetti. Siamo Stratagemmi Prospettive Teatrali, un'associazione culturale che promuove lo studio, la cultura del teatro e delle arti performative. Siamo qui perché in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e grazie al Piccolo Teatro conduciamo un workshop di critica e di osservazione delle arti performative rivolto alle studentesse e agli studenti dell'Università degli Studi di Milano. Esito di questo workshop che in qualche modo seguirà tutta la stagione, tutte le proposte del Piccolo Teatro è il magazine appunto Stormi, di cui oggi con questo incontro presentiamo il primo numero. Stormi è una pubblicazione mensile che cercherà di raccontare con interviste, recensioni, approfondimenti, contributi di personalità del mondo della cultura e dell'accademia, cercherà di raccontare quello che è uno dei segni principali di questo triennio del Piccolo Teatro, ossia il contributo delle artiste e degli artisti associati. I partecipanti al nostro osservatorio critico seguiranno, intervisteranno, incontreranno le artiste e gli artisti che compongono questa collezione di personalità e figure e in qualche modo restituiranno quello che sono le loro poetiche, le loro estetiche, anche in qualche modo le loro politiche. Il primo numero di cui appunto potete leggere l'esito e il risultato dalla home page del sito del Piccolo Teatro è dedicato a due degli artisti italiani che compongono questa collezione. Sotterraneo, di cui in questi giorni al Piccolo Teatro è in corso la personale, e Federica Rosellini. E in qualche modo questi due nomi, questi due artisti, sono le prime individualità che incontriamo di questo stormo. Con la scelta del titolo, del nostro contributo, noi abbiamo voluto restituire anche a livello simbolico quella che di primo impatto sembra essere il segno principale della presenza degli artisti e degli artisti associati al Piccolo Teatro, ossia una collezione, una galassia di individualità, di singole figure, ognuna portatrice di una propria estetica, di una propria biografia, e che ciononostante sono in grado di muoversi come un unicum coesi e di lasciare appunto un segno, una traccia nella stagione e nella vita del Piccolo Teatro. L'incontro di oggi prende le mosse da questa pubblicazione e siamo felici di avere qui due dei membri di Sotterraneo, Claudio Cirri e Daniele Villa, e Filippo Pennacchio, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Ulm. Con loro cercheremo di, in qualche modo, affondare lo sguardo in quello che è il segno e le creazioni di Sotterraneo. Lascio la parola a Maddalena Giovannelli, che invito appunto a introdurre quelli che sono i temi di cui oggi parleremo. Grazie, iniziamo questo nostro percorso annuale di cui siamo veramente felici in ottima compagnia, direi. E in una compagnia, mi piace dire, anche un po' generazionalmente vicina, perché l'attività di Stratagemmi, in qualche modo, ha la stessa vita di Sotterraneo. Siamo coetanei di fondazione e quindi ci fa particolarmente piacere ritrovarci qui oggi. E quindi li osserviamo da tanto, osserviamo da tanto i Sotterraneo. Non ci nasconderemo e diremo che ci piacciono anche molto, ci piacciono i loro lavori. E in particolare, così, in questa prima parte di questa nostra chiacchierata, vorremmo concentrarci su Overload. Ora, non faremo spoiler per chi deve vederlo, sta per vedere questo spettacolo, però qualcosa va detto, cioè uno spettacolo che sicuramente è un caso. In che senso? Non è frequente per una compagnia di quarantenni, giusto? Mi spiace, come dire, mettere i diti. Non ancora al tempo del debutto di Overload, ma attualmente è quarantenni. Quasi quarantenni. Un successo del genere. Gli indicatori che possiamo prendere in considerazione sono, da un lato, un premio Ubu che non arriva così facilmente ad uno spettacolo, appunto, di giovani, o più o meno giovani, e una circuitazione, cioè una tournée particolarmente fortunata. Ora, cos'è successo? Perché Overload, in qualche modo, può anche essere preso come un po' un caso di studio? Beh, perché, in qualche modo, quella che è il segno distintivo di sotterraneo, cioè la capacità di sintonizzarsi sui linguaggi del contemporaneo, ha trovato una speciale corrisponsione tra forma e contenuto. Cioè, loro, e appunto cercherò di non dire troppo, partono da una questione, che è il disturbo di attenzione da cui tutti siamo affetti, legato, ovviamente, alla nostra compulsiva abitudine a, come dire, linkare qualunque cosa ci capiti sott'occhio, mentre magari stiamo parlando con qualcuno, magari anche in una conversazione piuttosto interessante, e partendo proprio da questa dinamica fruitiva, un po' falsata, nella quale vediamo immerse, costruiscono la drammaturgia dello spettacolo. Quindi parlano di disturbo di attenzione, costruendo una drammaturgia che, diciamo, fa esistere quel modo molto svelto e veloce di cambiare da un argomento all'altro. E credo che questo successo, in parte, vada legato anche a questo, cioè al fatto che, in effetti, è uno spettacolo che parla di una questione che ci sta a cuore in un modo a cui siamo molto, molto avvezzi. Questa fatica delle arti performative del teatro di assestarsi sui ritmi della comunicazione contemporanea è una questione, credo che tutti noi, come spettatrici e spettatori, viviamo questa difficoltà, a volte, quando siamo davanti allo spettacolo teatrale, di concentrarci, anche se razionalmente riconosciamo, magari, che lo spettacolo è molto bello, ci sta prendendo, ma in qualche modo, nonostante noi, ci sentiamo non completamente concentrati. Ora, Overload parte da una suggestione, da un pensiero, che è quello di Foster Wallace, che è anche, esito un po' nel dire un personaggio, perché di personaggi negli spettacoli sotterranei ce ne sono pochi o niente, ma è sicuramente, come dire, un'apparizione, un'epifania, Foster Wallace. E, in effetti, mentre ci interrogavamo su quali sono, insomma, con tutta la redazione che ora è qui, su quali sono, se ci sono delle dominanti nel teatro e nelle forme degli artisti associati, ci siamo detti, così come primo punto di partenza, che, per esempio, c'è un modo molto interessante di dialogare con i pensatori, i classici, le personalità, diciamo, di riferimento del mondo culturale. Un modo assolutamente maturo, nel senso che è un modo che non implica una genuflessione davanti al pensiero dell'intellettuale, del pensatore di riferimento, ma una dialettica, una dialettica molto forte. E quindi, in questo tentativo, in un certo senso, si va formando, forse, un nuovo canone di pensiero, di interesse, che per voi, lo dite anche nell'intervista che leggerete in Stormi, è un canone molto aperto per voi, il canone va dalla serie TV, al, come dire, al cinema, a Shakespeare, a Foster Wallace, e così via. E anche qui siete molto vicini come tipo di posizionamento proprio a Foster Wallace. Allora, Filippo ha scritto delle pagine molto importanti su Foster Wallace e la prima cosa, così in apertura, che ti chiederei è proprio questa, cioè se Foster Wallace, che tipo di osservatore, che tipo di lettore, che tipo di intellettuale era e quali riferimenti, diciamo, abbracciava? Allora, intanto grazie Maddalena e tutti per avermi coinvolto. Sono contento di fare questa chiacchierata. Non so se riesco a rispondere a queste e le altre domande, ci provo. Faccio la parte di quello noioso, forse il critico che dice cose noiose, spero non troppo. No, per rispondere a questa domanda, secondo me, una cosa interessante è partire dal fatto che Wallace, oltre ad essere scrittore, era anche docente, insegnava, ha insegnato in varie università, insegnava scrittura creativa e anche dei corsi introduttivi di inglese, di letteratura inglese. E se si vanno a vedere i suoi programmi, diciamo così, i sillabi, i sillabi dei suoi corsi, all'interno si trovano dei testi che non ci aspetteremmo, me ne sono segnati anche i carri di Stephen King, il silenzio degli innocenti, le cronache di Narnia, che sono testi che non ci aspetteremmo in un corso di letteratura inglese. Nella sua biblioteca, che è adesso ospitata all'Università del Texas, ci sono tanti altri volumi che non sono i classici, necessariamente solo i classici della letteratura, ma ci sono anche tanti testi che diremmo di più largo consumo, di intrattenimento, diciamo così, che stanno però appunto a fianco di grandi classici della letteratura occidentale a nomi importanti della narrativa contemporanea, Don De Lillo, John Barthes, Coetzee, e questa secondo me è una cosa molto interessante, che mi fa dire che per Walla su un confine fra quella che si considera ancora alta letteratura e quella che si considera forse ingiustamente letteratura di consumo, non c'è, nel senso che stanno sullo stesso livello, sono meritevoli dello stesso interesse, che è una cosa non scontata, forse qui a Milano non così tanto, perché fortunatamente per chi studia in Statale c'è una tradizione che valorizza molto a partire da Vittorio Spinazzola e alla componente anche del romanzo pop, mettiamola così, però è un po' un'eccezione, tendenzialmente si pone ancora il confine tra letteratura di intrattenimento e letteratura alta, qualsiasi cosa voglia dire. Ecco, dal mio punto di vista, per Walla su questo confine è molto labile, o quasi non c'è, hanno la stessa dignità e richiedono lo stesso tipo di interesse. E assieme a questa aggiungo una cosa, Walla suoltre a essere un romanziere, essere uno scrittore di narrative, era anche un saggista, io non so quanti in sala conoscono il narratore Walla saggista, ecco, uno dei suoi saggi più noti riguarda il rapporto fra televisione e letterati e cultura più in generale. E lì Walla dice una cosa, secondo me, decisiva. Lui dice, io nella mia vita ho assunto, cito, megadosi di televisione spazzatura, ma queste megadosi mi hanno anche formato. non è una cosa che io vedo come pura spazzatura, ma è stato qualcosa di importante per me e probabilmente non riuscirei a raccontare l'America di oggi senza tenerne conto. E anche questa non è una cosa, secondo me, così scontata. È come se Walla ci dicesse che bisogna un po' compromettersi anche con quelli che vengono considerati media bassi, mass media bassi, per capire il mondo in cui siamo immersi. Poi, d'accordo, nelle sue pagine uno può dire c'è tanta complessità, c'è forse più una letteratura cerebrale che non una letteratura popolare. Io non credo che sia così, nel senso che ci sono tanti riferimenti a prodotti di consumo, anche appunto a media, che non sono solo quelli letterari. E poi, cosa che dal mio punto di vista lo rende tanto più interessante, c'è una voglia di raccontare che in tanti altri scrittori non c'è. Un'idea che la trama sia qualcosa di importante, non qualcosa a cui guardare con un po' di timore, che invece è una cosa che molti fanno. Non so se ho risposto alla domanda. Daniele e Claudio, vi rilancio due questioni, esatto, di quanto sia questa idea della costellazione di riferimenti, sia vi rilancio la questione che Filippo ha lasciato un po' aperto. Quanto è acquisito, dice in certi senso è acquisito questa equipollenza del riferimento alto e del riferimento basso. Cosa ne pensate? È davvero acquisita? E ultima questione spinosa, aprendo e presentandovi, vi dicevo, sotterraneo sono particolarmente bravi a, come dire, assestarsi sulle frequenze del linguaggio contemporaneo. Avete paura di perdere questa capacità? No, prossima domanda. Ridimmi la prima, che me la sono già persa. Costellazione di riferimenti. Costellazione di riferimenti. Faccio solo due premesse rapidissime. La prima sarebbe poi curioso sull'Ubu riflettere se è più una questione di anagrafe o di linguaggi rispetto a quali premi, a come vengono distribuiti i premi e farlo qui dentro sarebbe un discorso da fare, ma in stanze segrete e chiuse a chiave. La seconda premessa è, può alzare la mano a chi ha visto ieri lo spettacolo? Ok, giusto per avere un polso. Gli altri fuori. Gli altri mai dovessero vederlo stasera, siccome questa chiacchierata rischia di alzare le aspettative che per i teatranti è la cosa peggiore in assoluto perché voi adesso vi aspettate uno spettacolo bello. No, è brutto. Sarà una delusione devastante. Entrate in sala con questo approccio e sicuramente ci verrete incontro poi nel giudizio finale. Costellazione di riferimenti. Dunque, overload, che significa sovraccarico, è fatto di Wallace nel senso del suo immaginario, del suo pensiero sui media, della sua figura, della sua icona, ma in termini di rapimento noi non usiamo gli autori per ricitare, quindi recitare o ritradurre quello che gli autori producono. Usiamo gli autori nel senso che lì prendiamo di peso, li buttiamo in un furgone incappucciati, rubiamo un po' di cosa che ci piace di casa loro, le usiamo come ci serve per fare uno spettacolo e poi facciamo uno spettacolo che ha autonomia rispetto a quell'autore. In questo senso, se vedrete Shakespeareology stasera, vedrete che c'è tanto Shakespeare, ma è chiaramente una nostra versione di Shakespeare, non è fedele, vogliamo anzi prendere un autore per poi tradirlo. Ma in overload, ovviamente, ci sono i fumetti, le serie TV, i videogame, tutto ciò che in un singolo, diciamo, vocabolo può essere tradotto in immaginario collettivo, ovvero quel brodo di contenuti alti, bassi, orizzontali, profondi, superficiali in cui tutti ci muoviamo, da cui tutti siamo attraversati e colonizzati nel bene e nel male e che, per questo ti rispondevo giocosamente, no, non temiamo di perdere la sintonia col contemporaneo, perché muovendoci su quell'immaginario lì noi ci muoviamo nella mappa simbolica di cui tutti siamo fatti. Qual è il punto? è che si può usare questa mappa per alzare del grano e quindi fare dei gran prodotti commerciali lavorando su qualcosa che è già riconosciuto e riconoscibile, usarla per ripetere ciò che c'è già stato perché funzionava o si può usarla in termini sperimentali, che era quello che faceva Wallace, genio, inarrivabile, piccolo spoiler dello spettacolo, Wallace ha ricevuto una borsa di studio di 300 mila dollari in quanto genio, cioè gli hanno detto tieni sti 300 mila dollari perché sei un genio, non devi fare niente, non è che devi scrivere un libro, ottieni sti 300 mila dollari, sei un genio, a noi non è ancora successo, quindi insomma troviamo le giuste proporzioni, però era quello che faceva anche Wallace, cioè Wallace partiva da gli autori del postmoderno piuttosto che i classici, la serie tv più bieca, il fumetto più popolare, centrifugava tutto questo e ti consegnava infinite jest, cioè mille pagine complicatissime, divertentissime, che se lo rileggete tre volte capite tre volte tre cose diverse, quindi un po' l'obiettivo nell'usare le mappe è perderci insieme in questo immaginario per riflettere anche su come questo immaginario ci lavora e come rendersene anche autonomi o come sapersi muovere in modo autonomo dentro a questo immaginario, ma poi qualcosa vorrà aggiungere sicuramente Claudio. No, che altro tutto giusto ma non è la domanda di Maddalena, se non sbaglio, no? Classico, uno finge che ha una domanda No, no, rispetto a quello solo una piccolissima postilla sul fatto se alto e basso è dato per scontato che siano ormai equipollenti. L'impressione è che non lo sia così tanto nel nostro mondo teatrale, credo specialmente. Quando abbiamo iniziato negli stessi anni di Stratagemmi, quindi una quindicina di anni fa, possiamo dire tranquillamente che il nostro linguaggio era un po' guardato con sospetto perché facevamo ridere e fare ridere facendo teatro di ricerca era un qualche cosa che la gente diceva ma allora siete televisivi però c'è la profondità sì ma se siete troppo comici non va bene perché se rido allora sono troppo leggero e quindi inizialmente insomma ci siamo un po' scontrati con questa ritrosia e poi nel tempo altri gruppi come noi Babilonia Teatri ma insomma tanti altri hanno portato l'ironia la risata all'interno di un certo tipo di teatro e quindi in qualche modo lo sdoganamento è un po' avvenuto però sì insomma non è stato semplice tuttora non lo è perché comunque il sospetto che tu faccia ridere che quindi tu sia poco profondo c'è sempre tra l'altro appunto in ambienti teatrali in ambienti accademici non è un caso che appunto ci intendiamo ascoltando Filippo mi veniva in mente quanto allo sporcarsi le mani guardando televisione spazzatura un grande come Carmelo Bene pare passasse ore su ore a guardare qualunque tipo di programma televisivo non necessariamente trasferendolo nei suoi spettacoli ma comunque e a farla che comunque Carmelo Bene a Macao è un'esperienza di visione incredibile hai nominato quello che è forse una delle opere più importanti della letteratura degli ultimi decenni ossia Infinite Jest e nel nostro numero nel primo numero di Stormi abbiamo voluto interpellare alcune voci della cultura dell'accademia e delle arti contemporanee e una delle voci che abbiamo interpellato non a caso è quella di Chiara Lagani fondatrice Anima di Fanny Alexander quindi una delle compagnie che più ha rappresentato in una fase della storia del teatro italiano la ricerca l'avanguardia che adesso è sicuramente uno dei grandi nomi del teatro italiano e in questo contributo dal titolo percorrere Foster Wallace ha perdifiato Chiara ricorda anche quella che è stata un'esperienza che magari molti dei alcuni almeno dei presenti questo pomeriggio hanno avuto modo di vivere che è Rave Foster Wallace questa maratona teatrale negli spazi di Olinda se non sbaglio sì che aveva avuto luogo negli spazi di Olinda è che in qualche modo attraverso un numero molto ampio di performer coinvolti un uso del tempo quanto mai dilatato una serie di stazioni cercava di ripercorrere Infinite Jest e Foster Wallace ecco so che Filippo ha avuto modo di leggere questo contributo e volevo chiederti appunto quali suggestioni questa lettura da un artista che ha affrontato con quella afflato l'opus magnum allora peraltro non so se tutti conoscono questo pezzo a cui facevi riferimento probabilmente si può vedere andate sul sito andate sul sito del piccolo teatro e scaricate il primo numero di stormi io purtroppo Ray Foster Wallace non ho assistito però ho letto in che cosa è consistito e quello che credo sia interessante dire rispetto anche al modo di lavorare di Wallace che credo sia rilevante è che sono due cose secondo me la prima è che Wallace giocava moltissimo con le forme con i modi di raccontare se si apre infine i gest c'è dentro di tutto ci sono passaggi molto classici altri molto sperimentali ci sono forme orali oraleggianti altre proprio scritte per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando è un romanzo con più di cento pagine di note di note in conclusione che è una cosa che ovviamente si fa quando si scrive a un computer però ci sono anche altre parti invece in cui si fa la parodia di modi di parlare ad alta voce ecco la mia idea la mia impressione è che Wallace amasse molto giocare con le forme ibridarle fra loro e produrre un flusso un flusso narrativo dal quale si può entrare da varie parti in ultima analisi in fine gesto è questo librone di mille pagine che non è diviso in capitoli è diviso in brani potremmo dire che a volte fra loro non sono comunicanti altre volte sì e che proiettano una serie di traiettorie che da un lato disperdono il racconto in mille rivoli però andando avanti si trovano dei fili comuni che è interessante riannodare e che si possono riannodare per altri in molti modi diversi è vero tre volte lo si legge e tre volte si riannoda in modi diversi probabilmente e la seconda cosa secondo me rilevante non so se questo possa avere un aggancio con appunto le trasposizioni teatrali o con le sue rienterpretazioni è che Wallace aveva quello che mi piace definire uno straordinario talento mimetico nel senso che sulla pagina era come se sapesse replicare le voci i modi di parlare se si apre infinigest che rimane forse davvero la sua opera più importante ci sono pagine in cui Walla si imita il modo di parlare di lo slang degli afroamericani di piccole comunità però c'è anche il gergo degli accademici c'è il modo di pensare di un tossicodipendente in astinenza ma c'è anche quello di un critico cinematografico ipertalentuoso e ci sono anche tanti punti di vista che giudicheremmo poco interessanti ma che lui riesce a nobilitare in qualche modo questo non solo in infinigest ma anche tanti racconti c'è un racconto bellissimo che chiude oblio che è una raccolta di racconti del 2004 in cui per moltissime pagine Wallace riesce a intrattenerci mettendosi dal punto di vista di un gruppo di stagiste che sta pranzando e racconta le proprie pietanze preferite i vestiti che indossano cioè una cosa massimamente ininteressante in teoria da un punto di vista letterario che però Wallace riesce a restituirci in modo avvincente proprio perché replica il modo di parlare il punto di vista di quella di quella di quel caso di quella tipologia di persona anche professionale c'è un aneddoto peraltro che viene ricordato nella sua in uno dei libri scritti su di lui e cioè che da giovanissimo Wallace era in grado all'università di scrivere tesine per conto terzi non fatelo per conto terzi imitando il modo di scrivere dei professori che le commissionavano quindi era in grado sulla pagina di restituire il modo non solo le parole ovviamente ma proprio la postura il modo di e questa secondo me è una cosa che si ritrova nelle sue pagine cioè è talmente eclettico Wallace che è in grado di quasi un ventrilo come viene da dire cioè c'è lui in scena c'è lui che scrive però nelle sue parole fluiscono tante altre cose non so se questo è condivisibile o se ha un rispecchiamento nel vostro lavoro questo non lo so è una domanda reale rispondiamo davvero? no sì come diceva prima Daniele il nostro rapporto con gli autori è sempre un po' cannibalico e quindi c'è Wallace e non c'è Wallace quindi il lavoro non rispecchia il modo di scrivere di Wallace sicuramente quello che dicevi tu prima quindi usare l'alto e il basso stili diversi forme diverse è un qualcosa con cui ci è sempre piaciuto giocare quindi da questo punto di vista sì possiamo dire che anche a noi piace giocare con le forme con le modalità con le possibilità del teatro con le possibilità della grammatica teatrale quindi prendere tutti i suoi elementi costitutivi luce musica suono parola movimento e ricombinarli in maniere che ci sembrano intrattenenti nel senso ma anche divertenti sempre in entrambi i casi nel senso originario dei termini tra l'altro appunto in questa maratona che abbiamo evocato Foster Wallace di Overload compariva come come un'apparizione in una sorta di dialogo a distanza tra i due tra i due spettacoli ecco rispetto a questa dimensione del tempo nell'intervento Chiara Lagani si sofferma un po' su questa dimensione del tempo naturalmente lo sforzo di trasferire un'opera enorme come Infinity Gest ovviamente hanno tentato di farlo in una certa maniera cioè con una certa estensione del tempo ecco rispetto al tempo il tempo è fondamentale anche in Overload un tempo invece tutto frammentato e qual è il vostro lavoro sul tempo nella costruzione drammaturgica mi verrebbe da risponderti che chiunque faccia teatro lavora anzitutto sul tempo nel senso che lavora sul ritmo lavora sulla scansione e su quella specie di onda mutevole che si genera nella testa e nei cuori degli spettatori o almeno si punta a generare quindi dovresti sempre avere un controllo del tempo quando acceleri quando rallenti quando dilati quando cadi in Overload la complicità che ha chiesto al pubblico farò lo slalom fra gli spoiler chiaramente fa sì che il tempo sia un contratto fra noi e voi e non c'è stato a capire niente però lo capirete alle 21.30 per cui il discorso è che noi abbiamo creato una drammaturgia che è fatta di interruzioni queste interruzioni sono frutto anche di iniziative del pubblico quindi diciamo la frammentazione temporale è la struttura stessa dello spettacolo non c'è una narrazione non c'è un racconto non c'è un andare da un punto A a un punto B c'è una noi lo chiamiamo discorso centrale che va avanti e viene sistematicamente interrotto la durata delle interruzioni è di solito rapida perché sono accelerazioni sono intervalli che ci spostano dalla profondità verticale alla connettività orizzontale con una sospensione di giudizio da parte nostra cioè invece di rimanere in un punto saltiamo subito a un'altra possibilità che è la dimensione in cui l'ambiente aumentato dei nuovi media ci fa vivere quotidianamente e noi col pubblico giochiamo a sperimentare questi salti senza sancire se sia più giusto rimanere nella discesa verticale o saltare continuamente da una cosa all'altra ci piace tradurre questo questo meccanismo antropologico tecnologico in esperimento teatrale per riflettere in modo condiviso su questa cosa qua che ha molto a che fare con Wallace che non cominciate da Infinite Jest se cominciate da Infinite Jest ragazzi è finita cominciate da Oblio cominciate da una cosa divertente che non farò mai più che è il racconto di una crociera a cui lui ha partecipato poi passate a Infinite Jest che sono mille pagine intervallate dalle note come diceva Filippo per cui tu stai seguendo un racconto vai alla nota e ti succede centinaia di volte nel corso di romanzo e la nota è un altro racconto di due pagine e quindi tu ti dimentichi cosa stavi leggendo prima ecco quel tipo di meccanismo è proprio una cosa che abbiamo in comune con Wallace ecco parlavate prima di come percorrete in qualche modo fagocitate anche dei mezzi e delle possibilità dell'intrattenimento puro e le usate per altro ora questa questione dell'intrattenimento o no è una vecchia questione forse in giornate come queste diventa una questione ancora più spinosa il teatro che prende parola in un momento storico come questo come lo fa perché lo fa con quale grado di impegno per l'appunto e non troppo tempo fa un notissimo scrittore intellettuale come Walter Siti ha come dire lanciato una provocazione su questo no il come dire la risposta a questa difficoltà di abitare artisticamente un tempo difficile forse non è necessariamente impegnarsi cioè prendere parola in maniera impegnata naturalmente Siti provoca estremizzando un po' i termini della questione ma forse in questo modo ci obbliga anche a riflettere ecco per voi vi definireste come dire politici vi definireste impegnati e rispetto alla provocazione di Siti come rispondete? Siamo grandi fan di Siti e direi politici sì impegnati no vai andata e no nella misura in cui il discorso che Siti fa secondo me è una riflessione su come usare la produzione artistica per diffusione di pensiero critico nel tessuto sociale senza per questo diventare motori di ideologia e consolazione di tipo moralistico per cui e di conseguenza rinunciando alla forma perché il messaggio diventa più importante dell'oggetto artistico che tu produci noi citiamo spesso Ionesco che è un drammaturgo del secondo novecento immagino che qua lo conosciamo tutti alla domanda qual è il messaggio dei suoi testi Ionesco rispondeva non porto messaggi non sono un postino che secondo noi è risolutivo nel senso che politici vuol dire che quando si entra a vedere uno spettacolo del sotterraneo ci auguriamo ma stasera sarà brutto vi deluderà ci auguriamo che si inneschi una componente di intrattenimento divertimento ma anche una componente di allenamento dell'intelligenza collettiva del senso critico del pensiero dell'angoscia del male di vivere dell'inaccettazione del mondo di merda in cui viviamo tutto questo insieme buon divertimento al tempo stesso non c'è da parte nostra un'affermazione del vero rispetto al falso o del giusto rispetto allo sbagliato questa è una presa di posizione alla quale ci sottraiamo totalmente cioè l'idea è noi abbiamo questo problema questa ossessione che non ci torna della nostra realtà e del nostro tempo l'abbiamo trasfigurata in uno spettacolo la condividiamo con voi attraverso le arti performative e poi voi tornate a casa con questo problema se ce l'avevate prima l'avete un po' condiviso con noi se non ce l'avevate prima ne avete uno nuovo rispetto a quelli che già avevate ma buona finita lì abbiamo tutti dei bei problemi con cui come dice Donna Haraway della quale sono meno fan di City ma insomma stare a contatto con i problemi è anche un modo per fare qualche passettino verso la risoluzione dei problemi stessi quindi se politica è stare a contatto con i problemi sì se qual è l'altra impegno è dirvi la soluzione o come essere giusti o essere nel giusto allora no ecco da questo punto di vista Filippo il posizionamento di Wallace nel dibattito a lui contemporaneo come si collocava rispetto a questa provocazione di City beh intanto mi viene da dire che dal mio punto di vista Wallace e City sono due intellettuali diversissimi due scrittori diversissimi sia per come scrivevano per i contenuti di cui scrivevano e ovviamente Wallace non ha mai letto City City invece credo ha letto Wallace però non credo che sia fra i suoi scrittori questo credo di no però per rispondere alla domanda Wallace è l'impegno giusto se mi hai capito allora se io penso in Finigest credo che sia fra le altre cose un'opera importante perché da un lato prende posizione rispetto a una questione cruciale che è quella di cui abbiamo discusso fin qui del presente piccolo spoiler ma è uno spoiler che in fondo arriva dopo venti pagine dalla lettura per cui credo posso dirlo sì in Finigest il titolo di questo romanzone di Wallace è anche il titolo di un film che compare dentro questo romanzo che una volta che uno spettatore inizia a guardarlo cade in uno stato catatonico che in breve lo porta alla morte in buona sostanza e tutto il libro in ultima analisi è una critica anche frontale meglio non tanto frontale indiretta dell'influenza nociva che i media possono avere sulle nostre vite questo indubbiamente e dal mio punto di vista questo è prendere posizione su un qualcosa del presente allo stesso tempo però Wallace scrive un romanzo che è profondamente influenzato dai media e dal nostro modo di fruirli la cosa che si diceva prima sono perfettamente d'accordo le fratture anche temporali del suo romanzo ci sono e sono secondo me anche frutto di della capacità di Wallace di leggere il presente tra l'altro il romanzo del 96 dal mio punto di vista anticipa molte cose che oggi stiamo vivendo e tanto più interessante è il fatto che queste fratture questi buchi questi vuoti che ci sono nel romanzo secondo me sono delle specie di luoghi in cui Wallace è come se chiedesse al lettore di entrare non si riesce a leggere infini gesti se non ci si mette in un atteggiamento collaborativo cooperativo cioè se non si decide che bisogna prendere sul serio Wallace quindi andarsi a leggere le note alla fine del libro provare a riannodare i fili dell'intreccio cioè cercare di mettersi in un'ottica che non è quella del lettore passivo che riceve una storia magari consolatoria che appunto come ci spiega City ci tranquillizza ci rassicura Wallace è un lettore che ci mette la prova è uno scrittore che ci mette la prova e ci chiede di dialogare di entrare in contatto con i suoi testi e nel far questo credo che che prenda posizione rispetto alla nostra condizione anche di spettatori passivi cioè ci invita a essere lettori attivi anche fruitori credo attivi questo è quello che mi sento di dire ma questa è una delle cose che ci ha fatto innamorare di Wallace è il fatto che la dimensione dell'intrattenimento e del piacere e del divertimento sono forti nel libro ma l'accesso a tutto questo avviene mediante uno sforzo cognitivo quindi non parliamo dell'intrattenimento in termini basso televisivi per cui semplicemente ti permetto di spegnere il cervello e distrarti dall'orrore del mondo quotidiano che a volte va bene anche quello eh ragazzi però insomma non c'è solo quello c'è la proposta di uno sforzo cognitivo e in cambio a valle dello sforzo cognitivo ottieni un incontro un'epifania una rivelazione un momento di divertimento di libidine vera leggendo Wallace ecco a me è la cosa che piace che succede a teatro che non vado a teatro a sedermi su una cosa che mi scorre addosso facile mi fa benissimo che ricada uno sforzo cognitivo poi però nel contratto fra teatrante e spettatore devo anche dare quella cosa che c'è dopo lo sforzo cognitivo o durante addirittura l'amplesso migliore è sforzo cognitivo e piacere durante ecco rispetto ai consigli di lettura che dava nell'ordine condividi questo ordine proposto da Daniele nel senso io suggerisco ripartire dai racconti tipo Oblio che è una raccolta di racconti che è poi una cosa divertente che non farò mai più che è un saggio e poi se vi è piaciuto andate liberi io non voglio essere provocatorio cioè io ribalterei le cose allora date retta a lui perché lui è uno studioso di letteratura nel senso che io personalmente amo molto di più il Wallace narratore che non il Wallace saggista nel senso che è straordinario ovviamente però trovo che il migliore Wallace stia in infinigest e in oblio devo dire in queste due opere quindi si può iniziare anche ad oblio e poi passare a infinigest però infinigest ecco spaventa la mole e forse anche il primo centineo di pagine dove si fa fatica esattamente a capire che cosa ci stia raccontando subentra poi però un piacere enorme secondo me che è quello di capire come iniziano a intrecciarsi i discorsi e la sua struttura discontinua volutamente discontinua dal mio punto di vista agevola la lettura perché consente di appunto assumerlo per piccole dosi anche per cui credo che sia un romanzo che ci si può portare dietro anche per mesi senza godendone lo stesso che è così però sì esatto quindi io forse direi oblio infinigest potrebbe essere un buon inizio la saggistica magari parallelamente non dopo ma di fianco un termine che più volte è stato pronunciato questo pomeriggio è intrattenimento mi viene in mente un recente in realtà saggio di 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 san intrattenimento che ricorda come il tema dell'intrattenimento sia in realtà fondamentalmente un irrisolto della della cultura e del pensiero occidentale forse più nello specifico europeo e il saggio è particolarmente interessante anche per questi temi che avete affrontato oggi quindi ancora anche questo è un grande classico, una querella della cultura alta e bassa in qualche modo e Bionciolan ricorda come anche Bach sia stato accusato di essere fin troppo poco sacro e troppo vicino a forme di intrattenimento dell'ascolto. Ecco, uno dei contributi che ospitiamo in questo numero di stormi firmato dalla professoressa Maria Cristina Cavecchi che è in sala e che ringraziamo. Ciao. William Shakespeare che i sotterraneo portano in scena attraverso il corpo e la voce di Vudineri, anche questo per chi non l'avesse visto vi invitiamo a vederlo questa sera. Sala, William, ossia Vudineri e la professoressa Cavecchi in qualche modo racconta e attraversa quelle che sono tutte le forme che nel corso del novecento, le arti, anche quelle più pop, vengono citati i supereroi della Marvel, in qualche modo sono debitrici del genio di William Shakespeare. In qualche modo quel testo e tutto questo numero di stormi cerca di affrontare quello che è la contemporaneità, la sempiterna contemporaneità dei classici. Quello che vorremmo chiedergli in conclusione di questo incontro è quali sono le caratteristiche che possono fare di un classico qualcosa che ancora è straordinariamente contemporaneo, ma, ed è questa anche la provocazione che invece in qualche modo affrontando Foster Wallace abbiamo cercato di porre sul tavolo, che cosa rende Foster Wallace, che cosa può o dovrebbe rendere Foster Wallace o altri autori e altre autrici un classico, pur essendo così essenzialmente legati alla contemporaneità? Parti prima tu, sì, sì. Non vale. La domanda è difficilissima, confesso. Intanto, nota molto pedante e forse inutile, è interessante che Infinite Jest, che è il titolo dell'opera di cui abbiamo parlato, è una citazione da Shakespeare, dall'Amleto di Shakespeare, la scena in cui viene tirato fuori il teschio di Iori, che mi è ricordato come un ragazzo dalla Off the Infinite Jest, capace di un intrattenimento infinito, per cui è interessante, Wallace, dicevamo prima, dialoga con il contemporaneo, ma anche con i classici, il titolo della sua opera più importante è una citazione di Shakespeare. La classicità di Wallace, appunto, è una questione difficilissima da dire, secondo me è un po' anche a riassunto di quello che abbiamo detto fin qui, cioè la capacità di intercettare una serie di questioni centrali del presente, a volte anche forse di anticiparle, e di farlo con una forma che però non le respinge, cioè che accetta di compromettersi con il mondo in cui viviamo, anche in quelli che possono sembrare appunto aspetti deteriori, la distrazione perenne, appunto il fatto che assieme al libro ci sono tante altre cose. Secondo me la sua importanza sta lì, ed è un po', credo, un unicum della letteratura contemporanea, altri grandi scrittori degli ultimi trent'anni sono grandi, ma forse non hanno accettato frontalmente il dialogo con la complessità, non tanto con la complessità del presente, ma con appunto le risorse che si hanno per raccontarlo il presente e anche per viverlo. Secondo me Wallace è quello che ci ha riuscito meglio, altri grandi scrittori di oggi non l'hanno fatto così bene, secondo me. La paradossale classicità di Wallace, dico paradossale perché troppo presto ovviamente forse sta proprio qui, cioè nell'essere dentro pienamente al canone letterario, ma anche nello straniarlo con riferimenti che vengono da fuori. Questa secondo me potrebbe essere una chiave, una possibile chiave di lettura. Dobbiamo rispondere anche noi sulla... Allora sì, mi piace la paradossale classicità, nel senso che per essere un classico devi essere morto da tanto tanto tempo, ma la tua opera deve essere sopravvissuta tutto quel tempo al tuo cadavere in decomposizione. Quindi quello che mi viene da dire... Che fatica, adesso uscite da qua e vi dovete comprare. Wallace, City, Byung-Chul Han, muove e ne spara un altro che è Walter Benjamin, che tra l'altro è un riferimento dello spettacolo L'angelo della storia. Faccio anche lo spot, guarda, bravo, che facciamo sabato e domenica. Walter Benjamin viene definito come un... è un filosofo, viene morto suicida come Wallace, un'allegria che ci attraversa, è un filosofo che veniva definito, viene definito filosofo del divenire. Walter Benjamin era ossessionato dalle trasformazioni che attraversavano la società e cercava di fotografarle, leggerle, analizzarle, perché il mutare delle persone, degli usi, dei costumi, dell'immaginario era la cosa che cercava di comprendere per capire da dove venivamo e dove stavamo andando. Io credo che in letteratura, quindi con altri strumenti, altri linguaggi, diventi classico, se sei riuscito a fotografare il divenire del tuo tempo, perché comunque noi saremo sempre una specie in divenire, fin tanto che non ci suicidiamo distruggendo l'unico pianeta che abbiamo, chiusa parentesi, ma saremo sempre una specie in divenire e quindi se Shakespeare è riuscito, fra le mille altre cose, poi correggimi se dico sciocchezze, ma è riuscito a raccontare l'uomo e i rapporti di potere fra gli umani all'interno dei grandi ingranaggi della storia, l'ha fatto rispetto al suo tempo, ma abbiamo lo stesso tipo di divenire storico con cui confrontarci adesso. E se Wallace ha analizzato come i media, cioè le nostre narrazioni, le nostre simbolizzazioni, condizionano la nostra vita, questa è una cosa che finché avremo qualche tipo di tecnologia, di racconti condivisi, continueremo a dover sottoporre a vaglio critico. Quindi lavorare sul divenire, in arte, in filosofia, eccetera, è per me un modo per diventare classici. Noi ci proviamo, ma non c'è fretta di morire, ecco. La domanda che vi abbiamo posto è stata posta anche dai membri della redazione di Stormi a una serie di figure paradigmatiche, insegnanti, docenti universitari, uffici stampa. Quale classico è per voi ancora, o soprattutto contemporaneo, e quale opera contemporanea per voi dovrebbe essere, dovrebbe diventare un classico. Queste risposte, che sono un collage in qualche modo anche di suggestioni, di consigli di lettura, di consigli di ascolto, di visione, compongono la bacheca, che è l'ultima sezione della nostra rivista. C'è un tempo per qualche domanda, qualche curiosità? Nel frattempo, con una controscena perfetta, un teppismo impeccabile, dietro è stato allestito un banchetto con tutti i libri di cui abbiamo parlato in questo momento, che potrete andare ad acquistare alla fine di questo incontro. Ci sono curiosità, dubbi, perplessità? Anche pensieri, eh, qualcuno vuole dire qualcosa, almeno mi dà un rispone, diciamo, a seconda. Un'altra, 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 un'altra. Un'ultima, allora, domanda prima di chiudere. Perché abbiamo parlato, come dire, di Shakespeare, come dire, come paradigma, però invece qualcosa su Shakespeareology più nel dettaglio volevamo chiederle ancora, Nel senso che di fatto, anche qui no spoiler, tentate un'impossibile biografia in un certo senso. Ecco, da questo punto di vista, questa è palesemente una biografia impossibile per il personaggio in questione, però più in senso lato, e qui forse anche, come dire, se anche Filippo ha voglia di rispondere a quest'ultima suggestione, quanto le biografie, abbiamo da poco un Nobel dato a Daniel Ernaux che ha fatto appunto della biografia, del racconto della biografia, un precisissimo segno letterario, quanto e come la biografia vi interessa come artisti, se vi interessa, come lettori, se vi ha stufato, se vi piace o no, e a Filippo se ha voglia di, come dire, di darci qualche cosa sulle tendenze in questo senso in letteratura. Il titolo della, credo, biografia su Wallace, o comunque biografia intervista, è Ogni storia di amore è una storia di fantasmi, che è credo anche una citazione da Wallace. Il fantasma come evocazione di un morto che viene riportato in vita ed è presente è un qualche cosa che credo, possiamo dire, ricorra in tutti e tre i lavori in Overload, in Shakespeareology e nell'angelo della storia. In Overload c'è la presenza fantasmatica di Wallace, in Shakespeareology ovviamente quella di Shakespeare e nell'angelo della storia, al di là di Benjamin che aleggia su tutto lo spettacolo, ci sono una discreta quantità di morti che ricorrono per tutto lo spettacolo. Questo per dire che l'ossessione per questa ectoplasmaticità delle vite di persone che non ci sono più è un qualche cosa che sì, ci ha sempre molto interessato. Nel 2015 abbiamo fatto un lavoro che si chiamava B-Legend in cui ci immaginavamo come sarebbe potuto essere l'infanzia di tre personaggi famosi che erano, in quel caso Amleto, Giovanna d'Arco e Hitler. In scena c'erano dei bambini di 8-10 anni che incarnavano ciascuno di questi tre personaggi per andare a ricercare quello che era il daimon, ovvero la loro pulsione a divenire quello che poi sarebbero divenuti fin dall'infanzia. Questo perché appunto il fatto biografico penso che abbia sempre risuonato dentro di noi un po' nei nostri lavori e penso da quel momento in poi sempre di più, tanto è vero che siamo sempre poi andati a leggere le opere dei pensatori di riferimento dei nostri spettacoli, ma anche sempre più spesso le biografie, le cose che dicevano, le interviste. Perché, e penso abbiamo un po' a che fare con quello che diceva Dani prima rispetto al divenire, nelle biografie, nelle opere, nelle interviste si vede e si percepisce come quell'artista guardava al proprio tempo, come viveva all'interno del proprio tempo e di conseguenza è in qualche modo un'immagine cristallizzata, sempre per utilizzare termini beniaminiani, di come quel particolare momento storico si rifletteva all'interno di una persona e viceversa. Quindi la biografia in qualche modo è un cristallo dove si concentrano spesso le tensioni di un'epoca, chiaramente se l'artista biografizzato è un qualcuno che sa raccogliere in sé tutte queste tensioni. Io magari posso dire una cosa, che letterariamente parlando, mai come in questi anni, autobiografie e biografie sono al centro dell'interesse. Prima è stato citato Walter City come saggista, in realtà Walter City è noto soprattutto per non aver fatto altro dal 93 che raccontare la sua vita, finzionalizzandola. Autofiction si chiama questo genere letterario, autofiction alla francese, in cui si mescola l'autobiografia a fatti inventati. City in Italia è forse l'esponente più importante, ma ci sono tantissimi altri scrittori che fanno questo. E la cosa dice, secondo me, di un notevole interesse per le vite private delle persone, non a caso in un momento storico in cui le nostre vite sono continuamente sullo schermo, continuamente aggiornabili e a volte anche finzionalizzate. E anche il genere biografico più o meno la stessa cosa. Un'altra parolaccia che si usa oggi è biofiction, cioè il tentativo di raccontare la biografia di persone realmente esistite straniandola con artifici della finzione, forse il caso più famoso è quello di Carrère. Pensavo c'è spirologa. Sfiora la bestemmia biofiction. Sì, appunto, ho detto parolaccia per me. Biofiction senza fertilizzanti di sintesi. Sì, è una roba del genere. Però anche lì il tentativo è di raccontare la storia di personaggi realmente esistiti con artifici che sono più propri del romanzo, della finzione. Appunto, Emanuel Carrère, forse l'autore più conosciuto, ha scritto Limonov, che è questa vita di questo personaggio assurdo morto pochi anni fa. Ora comparirà nel banchetto di... Ah, ok, però è raccontata a volte come se fosse un romanzo, è come lui tanti altri, per cui non c'è stato, non c'è momento migliore che questo per parlare di... Tra l'altro gli spettatori e le spettatrici del Piccolo staranno ovviamente pensando a Sergio Blanco che su questi temi ha, come dire, impostato molto del suo lavoro drammaturgico e registico. Bene, direi che abbiamo messo tantissima carne al fuoco e grazie, grazie di cuore per questa bellissima chiacchierata, buone visioni con la sulla personale di Sotterraneo e buona lettura con Stormi che potete vedere in home page sul sito del Piccolo. Grazie.